Il porto di Civitavecchia è nella top 5 delle crociere, ma anche tra i più inquinati al mondo, insieme a Venezia, Napoli, Livorno, Genova e La Spezia. Lo sostiene un articolo di GreenReport.it, testata giornalistica che si occupa di ambiente ed economia sostenibile, scritto da Umberto Mazzantini, che spiega come il crocieristico è in crescita significativa a livello mondiale, con un tasso medio anno del 5,4% nell'ultimo decennio e con i porti di Civitavecchia e Napoli che si piazzano ai primi posti nella classifica europea che movimentano maggiori croceristi. Questo emerge dallo studio turismo croceristico italiano, scenari e trend dopo la pandemia globale, il test case di MSC, curato da Antonio Coviello, economista ricercatore CNR Iris e docente del Dipartimento di Economia Green Economy nell'Università Suor Orsola, ben in casa di Napoli e da Renato Somma, ricercatore INGV e associato al CNR Iris e al CNR Ismar e pubblicato nel volume Sostenibilità, contributi per il primo rapporto su Lab. Ma cosa comporta questa crescita? La crescita positiva del turismo croceristico deve fare i conti con la realtà ammessa dallo stesso studio, ovvero che le navi da crociera hanno un impatto ambientale negativo sulle città portuali. In particolare, mentre i porti per navi da crociera più inquinati in Europa sono Barcellona e Palma di Maiorca, i porti italiani di Venezia, Civitavecchia, Livorno, Napoli, Genova e La Spezia sono tra i più inquinati al mondo. Nell'articolo si parla delle possibili soluzioni solamente in parte attuate da parte delle compagnie croceristiche, dai carburanti a bassi tenori di zolfo, alla possibilità di passare al gas naturale liquefatto, passando per filtri e alla famosa elettrificazione delle banchine. Le emissioni zero, si legge nell'articolo, appare un sogno e lo stesso rapporto parla della sostenibilità ambientale di molte compagnie come strategia di marketing e poco più. Resta un tema quello delle emissioni provenienti dalle navi da crociera in porto che destano poca preoccupazione tra i cittadini di Civitavecchia, soprattutto nell'ultimo periodo con un susseguirsi di foto e segnalazioni alla capitaneria di fumate sospette dai camini dei giganti del mare.